Calcio mercato, Derisio Pescara, manca solo l'annuncio che a questo punto slitterà. La giornata di domani, il trentenne centrocampista originario di Vasto, arrivato nel primo proriggio di oggi all'EC Hotel di Città Sant'Angelo, quartiere generale del club Biancazzurro, preceduto da uno dei due agenti, Geri Palomba, definiti tutti gli accordi tra Bari e Pescara, il calciatore arriva in prestito, bisogna solo espletare le ultime formalità, compilazione dei vari moduli legati al trasferimento, ribadiamo in prestito secco. Domani visite mediche, annuncio ufficiale, Derisio va così ad innervare il reparto nevralgico, espressamente richiesto da Gaetano Auteri che lo ha avuto alle sue dipendenze per ben tre stagioni, due a Catanzaro, una a Bari lo scorso anno, necessario nel contempo sfoltire la rosa, i ranghi, i casi più spinosi, anche a dirlo Valdifiori e Galano per l'attaccante, c'era stato un sondaggio reale da parte dell'Ascoli che però ha virato forte su Tzadiut, classe 99, scuola Milan, quest'anno al Pordenone in Serie B, ex Cittadella, in uscita però dal club friulano, sul calciatore c'è anche il Perugia. Galano comunque non è stato mai richiesto dalla Ternana, come ci ha confermato al telefono poco fa, il DS Luca Leone. Ieri nuovo giro di tamponi, lo ricordiamo nel gruppo squadra emerse tre positività al Covid, i calciatori regolarmente vaccinati osserreranno il periodo di isolamento nel loro domicilio, in accordo con l'autorità sanitaria locale, pomeriggio allenamento, domani altra seduta, sempre nel pomeriggio. Il Teramo è ufficiale, la cessione di Matteo Piacentini al Modena, notizia che abbiamo anticipato proprio sabato scorso, primo gennaio, sul nostro sito www.reteotto.it, contratto triennale per il difensore classe 99 che lascia così il club bianco-rosso, dopo tre stagioni e mezza, 109 presenze. In stand-by lo scambio De Grazia-Lombardo col Piacenza, per De Grazia si tratterebbe, usiamo il condizionale, quanto mai di rigore, di un ritorno perché è stato bianco-rosso nella stagione 2018-2019, 35 presenze e 4 gol per il centrocapista classe 95. Attenzione, riflessioni del Teramo su Marilungo, ripensamento, punto di domanda, vedremo nei prossimi giorni, tra l'altro è stato accostato Marilungo anche alla Viterbese, ma non ci sono in questo caso conferme. Situazione Covid a Teramo, 7 positivi, più 3 da verificare per aver avuto contatti stretti.